Buongiorno a tutti gli amici di Varesot, sono Tiziano Pedrazzoli e sono qui a proporre l'ultimo mio libro dal titolo La biglia, un viaggio di sola andata. Dico l'ultimo perché dal 2007 ad oggi ho pubblicato altri due romanzi e due libri di poesie. La biglia in sostanza è un libro di avventure perché parla del protagonista che ha dei sogni, anzi direi degli incubi che lo tormentano ogni giorno. L'incubo più ricorrente è quello di uccidere la propria madre con una biglia scagliata a gran velocità da una fionda. Cosa succede? Nel momento in cui si accorge di essere un pericolo per se stesso e per la società, si autorinchiude in un istituto di igiene mentale dove cercherà in tutti i modi di poter riuscire a guarire da questa situazione. Solo che dopo mesi di terapie indotte i risultati sono veramente minimi o inesistenti. Quindi affiderà le proprie cure, i propri sogni, le proprie speranze a degli amici che troverà all'interno di questo stabile di cervelli in avaria. In pratica affiderà la propria cura a uno psicologo che è rinchiuso da più anni di lui nello stesso reparto. Riuscirà a guarire, riuscirà a tornare a casa oppure sarà tutto inutile? Questo lo scoprirete solo leggendo il libro. Come ultima cosa sono qui per invitarvi il 4 di luglio alle ore 11 in Villafrua a Laveno per la presentazione ufficiale di questo libro che secondo me ne vale veramente la pena. Grazie a tutti e vi aspetto numerosi!